Vittorio Perro, lei è consigliere comunale ad Alcomo, tra l'altro è anche presidente della terza commissiere consigliare. Si è recato, casualmente, per conoscere i posti alla Cannizzaro e ha trovato quello di cui è stato reso noto in questi giorni? Sì, io mi sono recato alla sorgente di Cannizzaro per un sopralluogo, ripeto, conoscitivo. Però ho arrivato davanti alla struttura che è composta, diciamo, da un unico corpo di fabbrica, se non ho visto male, perché non ho girato attorno e, insomma, quando sono entrato nello spiazzo, perché il cancello era aperto, ho visto che la sala cinesca e le porte in metallo erano aperte, a terra c'era qualche carcassa metallica di motori, delle pompe, insomma, resti di fuochi, quindi mi sono reso subito conto che, ovviamente, il comune non aveva sicuramente lasciato in quello stato la struttura. Quindi qualcuno è entrato, ovviamente, e ha fatto i danni che conosciamo. Sì, diciamo che, come dire, sappiamo che va di moda rubare il rame, però, come dire, il modo anche in cui questo è stato fatto ha danneggiato un po', insomma, le strutture. E con lei che idea si è fatta della situazione? A Cannizzaro è l'acqua, parte dell'acqua che arriva ad Alcamo. Sì, Cannizzaro è una delle sorgenti che dovrebbe portare l'acqua ad Alcamo. Da un anno e mezzo circa non è attiva perché ci sono dei lavori che inizieranno a breve di sistemazione e di rifacimento della condotta idrica. Però l'impianto di pompaggio è funzionante. Però, ahimè, ripeto, per problemi a rete idrica, all'acquedotto proprio è stato spento. E sinceramente il rammarico è che magari una telecamera, un sistema di videosorveglianza, un piccolo allarme avrebbe scongiurato qualcosa del genere. Senta, per raggiungere la Cannizzaro sono posti particolarmente imperivi, ce ne vuole, no? Eh sì, non è facile perché si raggiunge la sorgente percorrendo la strada provinciale che va dalla 113 a Madonna del Ponte. Da lì si imbocca una stradella che scende lungo il pendio perché la sorgente è proprio nel ballone. E ovviamente la strada, insomma, non è di facile percorrenza.